Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, situazione per la giornata di lunedì a scala europea con le correnti gelide che dalla Russia europea raggiungeranno i Balcani, insomma in generale l'Europa orientale. Per quanto riguarda l'Italia, campo di alta pressione disteso verso le isole britanniche e gli stati centrali del vecchio continente. Andiamo al dettaglio perché sull'Italia una giornata tranquilla, di bel tempo al mattino, poi durante il pomeriggio un po' di variabilità al centro-sud, soprattutto sul lato tirrenico. Difatti possiamo osservare qualche goccia di pioggia sul basso tirreno, altrove della variabilità tra sole e qualche annuvolamento. Al nord bella giornata, attenzione però alle foschie, alle nebbie in mattinata e di notte. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.